la raccolta differenziata, quindi portarla dall'attuale 77-80% all'85%. L'altra cosa è quella di aumentare la pulizia della città, ossia il decoro uguale, che va dalla pulizia delle strade che è già facciata, ma il servizio congiunto anche al riservo, come dicevamo prima, e alla pulizia delle cantoie, renderà la città pulita da un punto di vista proprio percorribile. L'altro punto dove si tenta di migliorare il servizio è quello di consentire la facilità dei cittadini a raggiungere dei punti dove scaricare dei rifiuti e quindi si aumenteranno dei punti dove il cittadino potrà confluire i propri rifiuti senza aspettare la raccolta del calendario o raggiungere i due centri di raccolta di Fiumicino. L'altra cosa è aumentare la raccolta dei rifiuti soprattutto di un settore che è molto importante a Fiumicino che è la ristorazione e gli stabilimenti pallinari.